Abbiamo salvato una tartaruga di 82 kg in Kenya, assurdo il lavoro che fanno quotidianamente i ragazzi di Local Ocean. Fare volontariato qui ti permette di assistere anche a questi salvataggi. La piccolina ha una ferita da un cino d'amo da pesca qui sotto. Per la calmata e medicata, per fortuna non era nulla di grave, l'abbiamo rilasciata in mare ed è stata una delle emozioni più potenti della nostra vita. Libera e felice, vai!